bella fra te benvenuto sul canale di nuovo benvenuti ragazzi allora oggi vi porto con noi in un'avventura particolare che è quella del rifacimento fari che già una volta abbiamo fatto fare anzi due volte abbiamo fatto fare la prima volta da carrozziera seconda volta da mister lavaggio però come vedete ingialliscono lui dorme sempre all'esterno il giorno lo portiamo con noi al lavoro eccetera quindi è sempre sotto il sole e questo è il risultato allora fra te questa è la soluzione abbiamo comprato su amazon qua sotto trovi il link ed è un kit fai da te per il rifacimento dei fari con il policarbonato però quindi vedi ci abbiamo dentro la boccettina ci abbiamo dentro la sua brocchettina corretto adesso te la spiego vieni con me che ti faccio vedere come funziona andiamo è quello qua allora ti spiego bene cosa c'è dentro raga istruzioni per iniziare inglese spagnolo e ru che sarà russo io pure russo ma la notte inglese non ci capisco niente a posto tampone questo serve per grattare vari tipi di carta abrasiva o carta vetrata come la volete chiamare e c'è 180 360 240 800 600 se non erro c'è anche la 1200 non erro quindi fino alla 1200 di grana quindi riesce ad andare bello sottile e fare le cose fatte come si devono questa è la brocchettina che serve per evaporare il policarbonato all'interno c'è un policarbonato da 800 grammi quindi con questo ci fai i fari per una vita intera però siccome l'intenzione anche di farlo sulla macchina quindi probabilmente lo useremo anche poi sulla fantastica mattizze del 99 del 2003 la nostra ci sono due guarnizioni che immagino vadano qui adesso leggerò le istruzioni romeno così capisco come come fare ma credo che sia una guarnizione da calzare qua questo va qua poi abbiamo alimentatore 220 e alimentatore accendisigari corto a mio avviso perché non c'è grandissimo tantissimo cavo quindi non è pratico assolutamente questo perché ci arrivi da malapena la cruscotta allo specchietto non esci fuori quindi questo è scartato questo invece è un alimentatore di carta è vuoto cioè non c'è niente dentro non so se esploderà lo attaccheremo alla bluetti esternamente questo lo attaccheremo qua lei scalderà e evaporerà il gas che ci servirà di policarbonato per rifare il faro quindi la teoria è questa la pratica ci proviamo ad applicarla leggo velocemente due cose tanto per capire se c'è qualcosa di interessante da sapere però insomma il meccanismo è questo dice che ripari fino al 99 per cento della del giallo del faro e quindi proviamo raga proviamo vi faccio sapere andiamo a provare all'interno come ti dicevo ci sono sei foglie di carte abrasive 180 240 360 poi c'è la 600 800 e 1200 quindi partiremo con la più grande quindi la 180 poi passeremo a grattare con la 240 poi passeremo alla 360 che è sempre più sottile poi la 600 poi la 800 e poi la 1200 laveremo asciugheremo e applicheremo quella plastica polimero gas gassoso che andrà a ricostruire la plastica e quindi a ridare la brillantezza adesso faccio dei tagli per questo tampone quindi mi vado a tagliare la carta tutti i fogli messi in scala li taglierò della misura corretta utile per poter essere utilizzata con il tamponcino e quindi per andare più comodo a fare la grattatura si dice così seppur all'interno ci sono tanti ml di liquido le carte ti permettono di poter fare due volte i fari non di più forse tre solo acqua e pannetto partiamo con la 180 allora questo è il risultato dopo il passaggio della 180 quindi sembra un disastro ma vedrai che come vedi il risultato sembra sempre peggio è sempre peggio sembra sembra adesso tocca alla 600 acqua adesso io non so quanto renda in telecamera però ecco il risultato è che deve rimanere tutta una cosa omogenea e liscia ok tutta asciutta di colore bianco perfettamente pulita e questo è il risultato adesso andiamo a provare a mettere il polimero vediamo cosa succede ci mette un po a scaldarsi quindi mi raccomando sempre le giuste protezioni noi qua siamo all'aria aperta non lo innaliamo sicuramente è un piccolo una piccola fuoriuscita di gas che lasciamo lì e stiamo bene a distanza quindi sempre attenzione non siamo soddisfatti ma comunque già un primo passo verso il futuro nel senso che non è brillantissimo ancora un po opaco dovuto al fatto che probabilmente abbiamo carteggiato male però almeno non è più giallo come prima adesso andiamo a fare l'altro cerchiamo di applicarci meglio vediamo come va se quello va meglio rifacciamo anche questo e few minutes later allora frate questo video è partito bene ma diciamo nel mezzo c'è stato il disastro gente che faceva casino nei campi un camion che è venuto qua a ritirare una casetta un macello quindi è stato fatto quello che si poteva a livello di registrazioni comunque questo è il risultato in questo faro dove era tutto un po più opaco ci abbiamo dato un'altra botta di polimero sopra l'abbiamo migliorato un pochettino ma è ancora un po opaco andrebbe ricarteggiato ma adesso non abbiamo più tempo purtroppo sappiamo che dobbiamo rifarlo ma sta decisamente meglio rispetto a prima perché prima era giallo adesso quantomeno ha una parvenza di trasparente normale quindi è ancora un po opacchino però ragazzi questo è il risultato non so se poi il regista mattia riesce a farci un prima e dopo vedrete insomma che ne valsa sicuramente la pena 34 euro 50 link qua sotto tempo di esecuzione paio d'ore se sei capace magari anche meno noi ci abbiamo messo due ore ma ci hanno distratto e quello chiacchiere a quell'altro siamo in mezzo alla strada purtroppo è così però frate come solito se ti è piaciuto sto video mi raccomando lasciaci un mi piace se non ti è piaciuto facci sapere perché non ti è piaciuto se c'è da fare i tuoi commenti falli pure qua sotto e divertite sfogate che a noi ci fa piacere fa community su youtube se non sei iscritto iscriviti per altri video utili e interessanti magari anche per te bella frate mi piace mi piace mi piace mi piace